Quando guardiamo il suo sorriso, noi sappiamo cosa c'è dietro. C'è l'impegno di chi ha fatto di tutto, per portargli cibo, acqua e cure mediche. C'è la voglia di andare avanti, senza fermarsi mai. C'è la scelta di farsi carico di un ideale che vola alto. Salvare fino all'ultimo bambino, con ogni mezzo. Dietro quel sorriso, ci sei tu. Dona al 45567. Sostieni. Save the children. Sostieni.